Buon pomeriggio a tutti, anch'io do il benvenuto e non posso non ringraziare il dottor Bianchi e la dottoressa Di Renzo per avermi coinvolta in modo attivo nel pensare, nell'organizzare poi questo evento a cui veramente teniamo tanto. Io presento immediatamente la dottoressa Di Renzo che è psicoterapeuta dell'età evolutiva, responsabile del servizio di terapia dell'istituto di ortofonologia e anche direttrice della scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva, nonché esperta delle aree precoci dello sviluppo, in particolare dei disturbi dello spettro autistico. Direi che chi ha avuto modo già di conoscerla non ha potuto non arricchirsi dall'averla incontrata e quindi credo che sarà molto interessante per tutti ascoltare quello che ci racconta. Beh, grazie. Allora, iniziamo un po' questo percorso che ci accompagnerà in questi giorni. Come ha detto Federico Bianchi di Castelbianco, fondamentalmente quello che noi vogliamo ottenere con queste giornate è quello di riattribuire al processo diagnostico la sua complessità. E questo perché? Perché secondo noi ridare complessità alla diagnosi significa varie cose. primo fra tutte restituire l'individualità al bambino, secondo rispettare maggiormente le teorie dello sviluppo che sempre più ci stanno dando uno spaccato del bambino fin dai primi giorni di vita e anche prima e rispettare le teorie nel loro spessore significa anche avere quelle conoscenze che ci permettano un approdo a una psicopatologia più complessa ma significa anche ridare al rigore scientifico la sua collocazione per fare in modo che l'approccio al bambino sia un approccio scientificamente fondato cioè per avere una metodologia di approccio più che l'applicazione di metodi che rischia di perdere il valore della scientificità e fondamentalmente per ridare al clinico la capacità di mettere insieme tutti questi elementi nel tentativo di integrarli cioè ridare al clinico la fatica di integrare gli elementi. Allora detto ciò farò una piccola disquisizione il mio intervento si chiama leggere sintomi per comprendere il bambino vuole significare proprio questo che i sintomi vanno compresi, vanno letti diciamo mi soffermerò un attimo proprio sull'etimo che a volte ci aiuta un attimo ad entrare nelle cose perché il termine diagnosi viene proprio da diagnosis e il dia prefisso è proprio un attraverso è un movimento, conoscere per mezzo di, conoscere attraverso e il processo, perché il convegno è il processo diagnostico il processus è proprio una serie di fatti, atti, operazione grazie ai quali si va avanti quindi vorrei sottolineare che è una serie di fatti ma anche di atti e operazioni che sono le operazioni che necessariamente dobbiamo compiere con un bambino per poterlo conoscere e quindi il processo diagnostico è per noi un andare avanti cercando di conoscere attraverso i fatti gli atti e le operazioni e prendendo proprio sempre una definizione da manuale la diagnosi è la cognizione dell'indole sede di una malattia per mezzo delle osservazioni di fenomeni che l'accompagnano e dell'esame della sua cagione allora una prima osservazione è che ci siamo persi la cagione e no, mi veniva da pensare quando scrivo questa cosa speriamo che non ci serva l'ippogrifo insomma per andare sulla luna a ricercare come fece a Stolfo il senno d'Orlando insomma che magari lo troviamo un po' prima sulla Terra e volevo anche soffermarmi sul significato di segno per arrivare al sintomo perché il segno in semiotica medica generale è qualsiasi manifestazione di malattia che possa essere oggettivamente accertata attraverso l'esame e questi sono i dati oggettivi ma non soltanto in semiotica medica anche in linguistica è questo ora quando più segni cadono insieme si un piptein cadono insieme formano il sintomo allora questo è molto importante perché il sintomo è diciamo questa è la definizione qualsiasi disordine indicativo di malattia accusato dal paziente è riferito come sensazione soggettiva perché non siamo più solo con segni sono segni che cadono insieme allora un sintomo ha bisogno che ci sia una lettura che apre a una complessità ed è la componente soggettiva del sintomo che rischia di rimanere fuori anch'essa come la cagione molto spesso dalle nostre interpretazioni se poi va bene sintomi e segni prendono la stessa strada allora avremo una sindrome ok perché sottolineavo l'aspetto soggettivo del sintomo perché il sintomo può essere rivelatore sia di una storia clinica che di potenzialità inespresse nel festeggiare il suo settantesimo anno James Hillman fece un outing confessandoci di essere stato dislessico e ci presentò questo dato dicendo ma cosa significava quella dislessia in un bambino di 7-8 anni era veramente la manifestazione solo di un deficit o era anche una impossibilità di mettere tante energie e tante potenzialità lui la dice così insomma nel suo modo ilmaniano di essere come faceva un bambino di 8 anni a reggere il diamond dello scrittore no? e questa riflessione di James Hillman mi ha fatto venire in mente tante storie di bambini che essendo io ormai molto grande che ho rivisto poi da adulti e molti che avevano di questi sintomi che non riconoscevano causa neurobiologica adesso insomma ne parleremo in maniera più dettagliata hanno espresso cioè il bambino non ha un altro modo di esprimere un suo disagio la sua impossibilità di trovare una strada se non manifestando dei sintomi che siano riconoscibili dall'adulto quindi credo che non dobbiamo mai dimenticare questa componente allora la funzione di una buona diagnosi è stato già detto è quello di restituirci il bambino nella sua complessità io vorrei parlare di quello che succede nella pratica clinica perché non scordiamoci che il bambino è sempre accompagnato da è sempre tradotto da non ci esprime il suo disagio è sempre qualcun altro che lo esprime per lui e anche questo è una taratura che noi dobbiamo fare molto spesso l'insegnante ci parla di una difficoltà il genitore ci parla di un'altra e quindi noi abbiamo con presenti tanti bambini che sono in realtà i bambini come sono visti dei singoli adulti e dobbiamo cercare di mettere insieme tutte queste visioni per poter diciamo il fine di una buona diagnosi che è il primo atto terapeutico è quella di restituire il bambino nella sua individualità nella sua complessità e quindi in questo senso costituisce un passo importante diciamo non ci sarebbe neanche più bisogno di sottolineare alcuni aspetti se non che la nostra pratica clinica è ancora fortemente influenzata da sistemi categoriali nonostante le teorie ormai ci rimandino in un altrove però la prassi ci riporta a delle difficoltà logistiche e allora vorrei riportare delle cose che Tucker ha espresso rispetto alle difficoltà delle diagnosi categoriali e voglio aprire una piccola parentesi sul fatto che nell'età evolutiva una diagnosi categoriale è un forte limite perché ovviamente noi abbiamo la compresenza di più aree nello sviluppo abbiamo linee di sviluppo saranno poi sottolineate e diciamo come ci ha indicato già i tempi e Freud come tutte le teorie cognitive attuali ci dicono non necessariamente tutte le linee di sviluppo procedono parallelamente ma non necessariamente questo è un segno di patologia tuttavia dobbiamo evidenziare le singole vulnerabilità che appartengono a ogni linea di sviluppo comunque quello che hanno sottolineato più autori criticando la diagnosi categoriale solo categoriale è che si rischia di perdere il paziente e la sua storia spesso viene trattata la diagnosi e non il paziente e lo studio della psicopatologia è praticamente inesistente e la focalizzazione sulla diagnosi ha detto Tucker rende la psichiatria noiosa perché in effetti è un meccanismo un po' ripetitivo se perché mi preme molto sottolineare una cosa ci possono essere dei limiti che appartengono a un sistema diagnostico ma i limiti che molto spesso noi abbiamo visto è anche l'uso inadeguato del sistema diagnostico e questo va sottolineato che insieme producono maggiori problemi comunque i comportamenti dicono Jensen Hoagud i comportamenti osservabili al presente sono enfatizzati come se si fosse verificato un divorzio dai significati e dalle motivazioni e classi di informazioni difficili e contrastanti fossero eliminate la cosa che mi interessa sottolineare nel parlare della complessità della diagnosi è che diciamo ogni tappa nell'età evolutiva è la conseguenza di cose che sono accadute prima e la storia del bambino la sua storia la storia del suo corpo la storia dell'ambiente la storia delle sue malattie sono altrettanto determinanti come i segni che vediamo nell'attualità a proposito di questo Anzermè dice siamo passati per esempio rispetto all'autismo concepito come una malattia dalla psichiatria infantile quindi presa in carico da coloro che curano a una malattia biologica che ha perso coloro che curano per interessare coloro che fanno ricerca dove è finito il soggetto e questo è l'aspetto che sottolineava già svariati anni fa a Manniti continua a permanere una divaricazione tra sistemi classificatori rilevanti per la valutazione e l'intervento clinico e sistemi classificatori derivati dalla ricerca questo è l'annosissimo problema se ne discuteva anche prima insieme della grande scissione che in genere c'è tra teorie e pratica e diciamo strumenti che vengono usati nella ricerca sono ignorati dalla clinica e questo è molto grave servirebbe una maggiore adesione dei modelli domani avremo modo di parlare di come è stato possibile riutilizzare alcuni strumenti che erano usati solo nella ricerca per utilizzarli invece al fine clinico al fine diagnostico d'altra parte è anche vero che chi lavora con la clinica è generalmente colui che ha maggiori intuizioni e quindi sarebbe tanto importante che ci fosse un minore scollamento tra queste due dimensioni e sempre sottolineato Stricker da Nancy McWilliams che è un altro personaggio che tanto ci ha aiutato a capire elementi della diagnosi e del processo diagnostico non bisogna confondere l'assenza di prova con la prova di un'assenza cioè la clinica non ci permette di escludere ciò che ancora non ha trovato una dimostrazione ma che empiricamente fa parte di una manifestazione del bambino e noi non possiamo ignorarla perché non abbiamo ancora dei dati quindi non possiamo dire che non c'è e questo mi sembra tanto tanto importante da un punto di vista epistemologico filosofico e di metodologia che non bisogna mai confondere l'assenza di prove con la prova di assenza e quindi diciamo la teoricità in questo senso costituisce un limite nell'età evolutiva perché noi abbiamo costantemente bisogno di teorie per poter dare senso a quello che accade e quindi in questo senso riprendevo la metafora di storia clinica o rivelazione per dire che non possiamo escludere nella clinica ciò che non risponde alle esigenze della ricerca ma dobbiamo molto sforzarci intanto noi come clinici di avere sempre uno sguardo alla ricerca e che i ricercatori facciano qualche sforzo per far aderire maggiormente alla clinica una psicopatologia che ignori i tempi e modi dello sviluppo non sape integrare le componenti della crescita io penso che alla fine non renda ragione né all'oggettività della scienza e né all'oggettività dell'individuo perché la scienza non si definisce dal contenuto ma dal metodo di indagine e credo che tutti noi dovremmo costantemente essere in rapporto con questo come dicevo prima con una metodologia che sia una metodologia scientifica di approccio al bambino queste cose saranno dette meglio di me dalla dottoressa Lucangeli io volevo solo per far capire in quale complessità ci muoviamo sottolineare che il dato genico predispone il fattore ambientale modera il dato genico e che sempre di più siamo passati da una linearità causale a una linearità di tipo circolare e secondo la neurobiologia contemporanea le esperienze non organizzano solo il sistema percettivo ma plasmano le modalità con le quali la mente sviluppa la capacità di elaborare i dati e questo in ogni momento dello sviluppo e in questo senso quindi una teoria dello sviluppo orienta la comprensione dei comportamenti nei passaggi critici non si può comprendere lo stato attuale del bambino se non come risultante della storia pregressa a volte colpisce quanto nella storia anamnestica siano un po' presi come quelle solite notizie che vanno a riempimento e non ci si fermi a ragionare su alcuni eventi che sono stati particolarmente significativi come può essere stata una ospedalizzazione prolungata ma ancora di più come può essere stato aver avuto per 5-6 mesi continui riflussi esofagei allora per un bambino di 6 mesi la cui costruzione del mondo avviene attraverso la corporeità e grazie a tutti i circuiti che poi si stabiliscono questo è un fatto che non può essere ignorato semplicemente non può essere ignorato e deve essere messo accanto a tutti gli altri perché potrebbe orientare diversamente molto spesso parlando con i genitori dico beh cerchiamo di scorporare quello che non è cioè cerchiamo di scorporare da questa etichetta che già c'è perché magari già il genitore arriva con un'idea cercata su internet di una diagnosi cerchiamo di capire che cosa è successo al corpo di questo bambino cerchiamo di capire cosa è successo nell'ambiente eccetera eccetera perché queste sono cose che incidono nel suo modo di rapportarsi e quindi quello di cui noi abbiamo bisogno è un fenotipo altamente variabile che risponda a tutti e due questi parametri e questo che già accennavo è che le varie funzioni non hanno ciascuno una propria linea separata costituiscono un sistema in cui questo è straordinariamente importante e non so perché spesso ignorato che lo sviluppo di ogni elemento modifica il funzionamento degli altri cioè non possiamo c'è molto forte in questi anni la contrapposizione tra cognitivo e affettivo e avevo che ieri sottolineavo nella conferenza stampa che per fortuna i bambini non lo sanno che per nostra comodità noi dividiamo le teorie cognitive e affettive e generalmente si arrabbiano mentre imparano imparano mentre fanno cioè non può esistere qualcosa nell'individuo di non esiste un individuo che possa essere solo in un modo o solo nell'altro quindi è l'impegno di noi clinici quello di tenere sempre compresenti le varie funzioni perché quello su cui non si riflette abbastanza e che mi preme sottolineare è che il bambino può aver apparentemente superato una tappa ma essersi lasciato per più svariati motivi delle lacune cioè non aver completamente interiorizzato tutti gli obiettivi chiamamoli così della tappa di sviluppo precedente e questo ovviamente lo rende più vulnerabile nella prossima tappa perché non ha ampiamente sviluppato e come sottolinea ampiamente Tronic che è un'autorità riconosciuta in ambito cognitivo entro il sistema primario di mutua regolazione bambino caregiver i pattern disfunzionali e gli affetti depressivi materni possono essere trasmessi nell'esperienza infantile delle relazioni precocissime questo non va assolutamente confuso con il fatto che uno voglia vedere solo la componente psichica perché per quello che riguarda la mia visione dello sviluppo lo psichico è assolutamente inscindibile dal materico e quindi non può esistere ad ogni tappa dello sviluppo noi non possiamo scendere un elemento dall'altro e quindi non significa pensare perché è stato vorrei proprio spendere due parole su questo è stato veramente molto mal usato questo fatto che ogni volta che si definisce il termine psichico affettivo si è tacciati di voler arrivare con le mamme frigorifero è stata una lunga diatriba in questi anni l'affettività è una parte della regolazione della crescita e non c'entra niente con le colpevolizzazioni alle madri che hanno invece un assoluto bisogno di essere aiutate a capire nei casi in cui il bambino sia un bambino difficile perché anche per quello che riguarda l'autismo avremo modo di dirlo meglio domani è il bambino che non attiva la risposta di regolazione e che non attiva la responsività della madre quindi questo è un dato su cui c'è un accordo universale insomma e da lì poi viene tutto il resto ok comunque gli stati della mente che il bambino ha sperimentato nel primo anno di vita con genitori vissuto come poco prevedibili vengono iscritti nella memoria emozionale diventando tratti caratteristici della personalità e questo è un altro elemento molto importante su cui Seligman si è soffermato e cioè che anche l'impotenza può essere appresa perché se io mi trovo in un ambiente in cui caregiver o chi sia non riesce a far fronte a determinate cose in camera un modello avremo modo di parlare di modelli di attaccamento anche nel corso di queste giornate è chiaro che questo diventa un modello appreso si sta anche dando importanza ultimamente all'enouncement come riattivazione di comportamenti emotivi precedenti per chi viene da una tradizione psicodinamica questo è diciamo un dato persino scontato che c'è sempre di fronte a un momento difficile la riattivazione di nuclei complessuali antichi e questa è una cosa importante perché noi lo vediamo anche nei bambini se il bambino non ha superato adeguatamente una tappa riattiverà dei comportamenti emotivi precedenti perché non ha ancora sviluppato quelli che gli permettono di affrontare la situazione attuale e questo però non deve essere per forza visto come una regressione come cioè dobbiamo capire perché lo fa e da che cosa è stato attivato la strategia per la regolazione di stato sono inizialmente fornite dal caregiver interiorizzate dal bambino e si generalizzano nel tempo per includere la regolazione degli stati affettivi la rausal l'attenzione l'organizzazione di comportamenti complessi che comprendono l'interazione sociale che questo ci fa capire perché non possiamo considerare inscindibili le capacità cognitive che si vanno strutturando con la dimensione affettiva che consente di farlo quindi la 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 l'attenzione l'organizzazione quando avremo una piccola parte dedicata anche alle funzioni esecutive diciamo anche lì non possiamo considerarle come qualcosa di separato dalla relazionalità esiste una continua integrazione tra le interazioni sociali e lo sviluppo di percorsi neurali del cervello e credo che su questo la dottoressa Lucangeli ci aiuterà a capire ancora meglio però dobbiamo darlo ormai come un dato teorico assodato e la mancanza di sintonizzazione questo è un altro concetto importante può verificarsi anche quando bisogni fisici e fisiologici sono soddisfatti insomma dobbiamo stern tutti i lavori sulla sintonizzazione e le possibili mancate sintonizzazioni ed è estremamente importante capire che le sintonizzazioni le danze come le ha definite esterne le danze di interazione tra il bambino e la madre appunto riguardano proprio sono delle componenti prosociali non riguardano soltanto i bisogni fisici fisiologici la cosa è importante e qui voglio fare un primo aggancio alle complessità dei disturbi è che le sintonizzazioni materne sono transmodali e che le difficoltà nel trasferimento transmodale già può essere un predittore di problemi e diciamo quando arriva il linguaggio devono essere già successe una serie di cose perché il linguaggio è una nuova forma di relazione ma anche un ostacolo all'integrazione del sé proprio perché le sensorialità precedenti sono trasmodali ed è necessario che ci sia stata l'integrazione di tutte le sensorialità perché un sistema che va per categorie come il linguaggio possa inserirsi quando è già avvenuta tutta l'integrazione altrimenti crea già una prima discontinuità e questo è molto importante considerarlo perché il linguaggio può spezzare l'esperienza globale e modale introducendo una discontinuità e il bambino rischia di perdere la forza e la pienezza dell'esperienza originaria credo che di fronte a un disturbo del linguaggio ci si debba interrogare dopo aver analizzato tutti gli aspetti oggettivi le malocclusioni tutti i dati insomma doppre scontato quelle che sono le prassi osservative ci si debba poi fare una domanda se quando il bambino è arrivato al linguaggio erano già successe in maniera adeguata tutte le esperienze precedenti perché proprio il linguaggio è un grande strumento categoriale quello che fa il salto Brunner ci ha insegnato che diciamo grazie all'isomorfismo di strutture da tutti i sistemi rappresentativi alla fine il linguaggio può emergere come attività simbolica categorizzante ma solo perché c'è stata precedentemente questa trasposizione continua da un sistema sensoriale all'altro perché diciamo trovare un accordo sui significati come accade nel linguaggio comporta molto fallimenti e questo può essere frustrante questo diciamo nell'interazione è quello che avviene dai primi giorni di vita quando la madre con le sue ipotesi di semanticità della mente del bambino tenta di interpretare di dire forse c'ha fame no c'ha sonno no c'ha questo no c'ha l'altro cioè è un che può comportare frustrazioni perché non sempre ma una madre generalmente impara ma arriva il momento in cui anche il bambino deve riuscire a sopportare delle frustrazioni e se nel modello precedente non c'è stata questa capacità di proporre varie interpretazioni fino a trovare quella giusta e allora c'è un freno e diciamo questo lo dico perché attualmente noi abbiamo veramente una percentuale altissima di bambini che hanno un'intolleranza fortissima alla frustrazione sta diventando la malattia del secolo dell'infanzia come sanno tutti coloro che lavorano nei nidi negli asili e lavorano con i bambini e su questa intolleranza alla frustrazione prima che diventi anch'essa un'epidemia dobbiamo interrogarci sui modelli sociali oltre che poi interrogarci sul singolo bambino su tutto ciò che potrebbe avere perché di fronte alla frustrazione determinata da questa da questa contrattazione che richiede l'apprendimento del linguaggio il bambino può arrendersi al flusso di arousel decretato dalla madre e allora perdere la capacità di autoregolarsi su questo avremo approfondiremo che cosa significa come si instaurano i disturbi della regolazione che vi dico la verità fanno parte del sistema classificatorio 03 è una diagnosi che è usata pochissimo anzi quasi per niente allora l'altro concetto che mi piace segnalare è quello che attualmente è stato ridefinito su questo anche la società italiana dello stress post-traumatico di cui faccio parte sta dando una grandissima importanza a questi aspetti del trauma come Shapirol ha definito il trauma tipiccolo che rendono disfunzionale il sistema adattivo dell'elaborazione dell'informazione questo nel DSM5 in effetti è stato proprio modificato è proprio cambiata l'organizzazione dei disturbi traumatici perché non stiamo parlando la cosa che mi preme sottolineare noi non stiamo parlando di patologie un trauma tipiccolo non definisce una patologia però definisce una modalità con cui il bambino ha dovuto far fronte e se io non capisco da dove è partita questa modalità non capisco cosa è venuto dopo e quindi non capirò come poterlo aiutare perché se io vado solo alla fine del processo e gli propongo una terapia che sia basata su quello che vedo beh ignoro la zona di sviluppo prossimale di cui Vigoschi ha veramente ampiamente su cui Vigoschi ci ha ampiamente illuminato e sostanzialmente non riesco ad aiutare il bambino perché vado o troppo sotto o troppo sopra quindi a noi una diagnosi serve fondamentalmente perché dobbiamo trovare una risposta d'aiuto e allora dobbiamo capire quali sono tutti i punti di vulnerabilità di disagio per poter ripartire da lì a riregolare lo sviluppo e aiutare il bambino ad andare avanti e quindi rendono disfunzionale il sistema adattivo nell'elaborazione dell'informazione e questo è il concetto che Masud Khan aveva espresso già molti anni fa di trauma accumulativo che lui definiva come il risultato delle brecce nella barriera protettiva che possono verificarsi lungo tutto il corso dello sviluppo in quelle zone di esperienza in cui il bambino continua ad avere bisogno della madre cioè man mano nel corso di sviluppo c'è quel punto nodale in cui il bambino continua ad avere bisogno dell'adulto e queste brecce questi urti queste disfunzioni nella relazione capite che se continuano a sommarsi nel tempo alla fine diventano qualcosa che io non riconosco più come commensurabile nel presente ma che posso solo capire se ricostruisco la storia dei piccolissimi traumi delle disfunzioni le possiamo chiamare come vogliamo basta che ci intendiamo sul contenuto di cui stiamo parlando e questo volevo sottolineare le brecce hanno il carattere di una pressione e costituiscono una deviazione non una deformazione dello sviluppo dell'eo quindi noi dobbiamo capire dove in quale punto il bambino ha dovuto fare una deviazione per continuare ad adattarsi all'ambiente e a volte proprio grazie a questo si faceva riferimento ai bambini plus dodati e proprio guardando queste traiettorie guardando dove il bambino addirittura è ipercompensato cioè ce l'ha messa tutta per trovare una soluzione ma non ce l'ha fatta con i suoi strumenti perché non è stato compreso questa deviazione allora se ci sgombriamo la mente dal terrore diciamo è subito patologico non è patologico ma cerchiamo di capire che è l'appello che vogliamo lanciare è che dobbiamo sforzarci di capire è meglio farsi mille domande piuttosto che farsene una e meno Masud Khan che appunto era del trauma maculativo dice le carenze del ruolo protettivo moderno producono urti che il bambino non ha alcun mezzo per eliminare quindi può costituirsi un nucleo di reazioni patogene quali sono le conseguenze ci può essere uno sviluppo prematuro e selettivo dell'io bambini che noi vediamo poi come disarmonici bambini che sono riusciti a utilizzare soprattutto per esempio il versante cognitivo ma che non sono riusciti a compensare l'urto la deviazione che è avvenuta nelle sintonizzazioni e quindi questo sviluppo selettivo dell'io è qualcosa che molto spesso può depistare il clinico perché il bambino sembra essere ad un livello più evoluto di quanto realmente non sia e quindi ecco perché è sempre importante la ricostruzione della storia oppure uno squilibrio nell'integrazione degli sviluppi degli impulsi aggressivi certamente se diciamo un bambino non non ha avuto l'adeguata regolazione è molto probabile e se quelle esperienze transmodali che avevano il compito di creare l'interazione di tutti i sistemi dal punto di vista esperienziale collegata a circuiti cerebrali se tutto questo non è avvenuto in modo adeguato ci può essere una cattiva integrazione degli impulsi oppure una difficoltà a costruire riunio coerente oppure un'altra delle possibilità cliniche è che ci sia un vissuto di falsa unione per cui il bambino si preoccupa per la madre ora senza chiamare in causa concetti che siano solo di ambito psicodinamico che perché davvero io penso che attualmente noi come clinici abbiamo il dovere di sapere integrare i linguaggi e non può essere più il tempo perché le teorie ci hanno detto che non è più quel tempo di poter leggere la realtà soltanto con una lente perché la realtà è diventata noi siamo partiti noi che ci occupiamo di infanzia come è partita la psicoterapia dell'infanzia come è partita l'idea dello sviluppo psichico del bambino che era raccontato e ora ci troviamo con un bambino osservato quindi i nostri le nostre teorie hanno bisogno di confrontarsi e credo che se non si ha la capacità di essere tolleranti alla compresenza credo che sia quasi impossibile lavorare con l'infanzia perché il bambino ha diritto ad avere la sua molteplicità almeno fin quando non trova poi una sua strada e quindi noi che siamo accanti a bambino dobbiamo essere davvero i garanti della possibilità di espandersi nei vari modi quindi se concettualmente non siamo noi primi a farlo è difficile trovare poi strategie terapeutiche che siano adatte e ovviamente tutto questo si ritrova assolutamente nello sviluppo dell'io corporeo perché è impossibile che queste esperienze non lasciano un segno faccio un esempio per tutti da molto tempo sono particolarmente attenta all'osservazione della della postura delle modalità corporee degli schemi d'azione dei bambini che hanno sviluppato un disturbo dello spettro autistico ed è diciamo se si riuscisse a focalizzare davvero l'attenzione già semplicemente osservando attentamente la postura e gli schemi d'azione si potrebbe già differenziare un bambino che ha strutturato un autismo o no perché tutte le patologie del bambino si iscrivono fortemente nel corpo e quindi le tensioni che determinano poi a loro volta un modo di essere e questa è la cosa che è difficile da capire un bambino che è tutto in uno stato di tensione che ha un respiro alto che va sulle punte è chiaro che guarderà al mondo da quella prospettiva e quella prospettiva sarà il suo unico modo di interpretare il mondo allora diciamo è tanto importante sapere e capire che il corpo del bambino ci racconta la sua storia e a noi è chiesto di essere degli attenti osservatori di questo ora quello che succede e questo anche lo possiamo dire con tanti linguaggi che la mancata sintonizzazione cioè il bambino che non riceve perché la sintonizzazione per chi non fosse familiare col termine è proprio significa trovare la stessa lunghezza d'onda no mettersi la lunghezza d'onda a che fare con i livelli energetici con le dimensioni affettive arcaiche e quindi è proprio quello è la risposta vitale insomma come dire un'immagine molto bella è la descrizione della madre come attivatore del sé l'Anna Alvarez che ha trovato immagini sempre straordinarie che parla del terapeuta come compagno vivo è proprio quella capacità di tenere la risposta vitale dell'altro ora un bambino che per le più svariate motivazioni compreso una sua difficoltà iniziale se stiamo parlando di un bambino autistico è chiaro che non sentirsi sintonizzato non aver ricevuto la sintonizzazione e quindi in qualche modo non essersi sentito rispecchiato proverà un profondo senso di disagio diciamo Noemian ha parlato di colpa primaria cioè comunque un non sentirsi sporco cattivo è che è una frase se ci pensate i bambini dicono spessissimo cioè quando qualcosa non va i bambini piccoli se non troppo influenzati dall'ambiente dicono beh la prima cosa che io domando un bambino anche piccolo perché è venuto che c'è che non va con la sua vita in genere la prima cosa che un bambino piccolo dice ci sono cattivo davvero e che fai no? cioè che succede? dov'è sta cattiveria? che è perché non scrive bene a che poi ci sono pure quelli che alla fine riescono a essere veramente cattivi però anche su questo siccome non esiste un bambino cattivo diciamo dobbiamo domandarci su ogni comportamento del bambino perché un bambino è costretto a fare sempre il cattivo sta facendo il cattivo per chi e perché no? e perché certamente è sempre responsabilità relazionale dell'adulto quella che fa essere il bambino in un certo modo e quindi ovviamente siccome i bambini procedono per grandi categorie insomma unilaterali uno è buono è cattivo non è che è così così insomma quello succede dopo quando uno è molto cresciuto chiaramente un bambino che si sente cattivo si sente non amato e questo non c'entra niente con il fatto che i genitori lo adorino e non va assolutamente confuso perché diciamo un bambino può sentirsi non amato perché non corrisponde a determinate cose perché anche non per l'amore che i genitori non hanno ma per dove stanno puntando i genitori diciamo e mille altre motivazioni quindi quello che succede nello sviluppo è che le mancate o imperfette sintonizzazioni le chiamava proprio così già dagli anni ottanta Stern producono nel tempo un effetto domino sullo sviluppo che deve essere preso in considerazione perché se noi non consideriamo questo effetto domino ripeto non riusciamo a vedere e la cosa che la quale vorremmo veramente ecco l'appello che io vorrei lanciare è quello di osservare un pochino di più i bambini a volte siamo presi dal fare un test e uno magari non vede come impugna la matita come guarda dall'altra parte e come cioè bisogna che li guardiamo i bambini che interagiamo con loro che scopriamo come ci sentiamo che scopriamo nell'osservazione per esempio un conto è l'osservazione strutturata è un conto è l'osservazione in cui io in realtà cerco una relazione col bambino perché questo mi permette di capire la differenza tra ciò a cui il bambino arriva da solo e ciò a cui può arrivare se un adulto si sintonizza adeguatamente con le sue necessità e questo da un punto di vista terapeutico è un'informazione fondamentale quindi dovrebbe a mio avviso far parte sempre dell'osservazione un'interazione con il bambino e diciamo questo mi sembra interessante perché in realtà noi ne avremmo tanti di concetti utili che potremmo usare nell'attuale scenario il problema è che non vengono usati per esempio Felitti ha introdotto la nozione di ESI che sono le esperienze spavolevoli infantili bellissimo mi ritrovo tantissimo una cosa che uso tante volte con i genitori poi ho scoperto che lui l'aveva detto così che sono quell'insieme di situazioni vissute nell'infanzia che possono essere definite incidenti di percorso l'incidente di percorso capite che nell'età evolutiva è diverso se la madre è stata operata ed è stata tre mesi in ospedale quando il bambino aveva due mesi o quando aveva due anni o quando ne aveva cinque cioè ognuna di queste la mancanza in ognuna di quest'età produce degli effetti diversi allora questi non sono nient'altro che incidenti di percorso che sono corsi noi ci troviamo proprio l'altra settimana un bambino che abbiamo detto e vabbè nient'altro ha cambiato casa la nonna è morta il padre è stato in ospedale la madre poi ci ha avuto cioè praticamente uno sfacello nei due anni di vita è quello che poi cercavamo di restituire alla madre adesso cercheremo di capire perché certo tutta questa roba un'incidenza ce l'ha avuta quindi prima di fare una diagnosi cerchiamo di capire tutte queste cose perché se il bambino si è chiuso sì è molto probabile dobbiamo capire se la sua chiusura era quella dell'inizio per cui il bambino non ha quella capacità di attivare la responsività dell'altro o se a un certo punto siccome gli altri che stavano in ospedale non hanno avuto responsività non l'hanno attivata in lui questa è una cosa estremamente importante da capire perché significa come noi dovremo lavorare quindi è fondamentale ma qui credo che Emanuele ci aiuterà a distinguere la vulnerabilità dal deficit per non correre il rischio di anticipare la diagnosi perché questo è un altro concetto su cui scusatemi io sono un po' fissata ma una diagnosi precoce non deve essere mai confusa con una precocizzazione della diagnosi noi dobbiamo siamo chiamati oggi sempre più a leggere scoprire vedere le vulnerabilità del bambino per fare in modo che non arrivi eventualmente a una determinata diagnosi ma capite che anticipare la diagnosi oltre che in alcuni casi essere fuori logo a contestuale come diagnosticare un bambino dislessico a 5 anni e mezzo che ancora non ha imparato a leggere per cui è una scorrettezza ma questo sarebbe il meno il problema è che se io anticipo una diagnosi io stabilisco tutta una serie di risposte e come fa un bambino a far capire agli altri che non era esattamente così ma che è in un altro modo cioè se si entra in un pregiudizio diagnostico neanche un adulto ce la fa ma vi assicuro che un bambino non ce la può fare e credo che il nostro dovere sia proteggere i bambini da questi pregiudizi ne abbiamo visti tantissimi di bambini che erano arrivati con queste diagnosi così a due anni già a due anni e mezzo sancita la diagnosi e che tra l'altro un aspetto su cui non si rifletta abbastanza è l'impatto che la diagnosi ha sul genitore e su questo bisognerebbe proprio aprire un grande discorso perché io ho avuto svariate situazioni in cui attentamente siamo riusciti alla fine a fare un cambio di diagnosi ed è stato terribile per il genitore una madre ve lo dico perché proprio noi su queste cose dobbiamo riflettere mi ha detto ma dottoressa adesso mi ero abituata adesso devo ricambiare tutto cioè ho avuto un dramma di sei mesi per abituarmi a questa come dire nonostanto la diagnosi fosse più leggera era un evento drammatico ricambiare no? cioè aveva trovato un suo equilibrio nel dramma e adesso era ma posso sperare ma è vero ma non cioè quindi perché il bambino vive accanto a degli adulti e noi dobbiamo avere la massima cura degli adulti che stanno accanto al bambino quindi attenzione a non precocizzare le diagnosi cioè non confondere il fatto di individuare dei segni con il fatto di fare una diagnosi ma questo credo che sarà ribadito da più parti e questo è sempre Alan Francis non bisogna mai dimenticare che in caso di dubbio è più corretto sottodiagnosticare perché facciamo sempre in tempo a rivedere il bambino e ad alzare la diagnosi ma è difficilissimo fare il contrario mandare un bambino a scuola vi parlo dell'ambiente anche più nella scuola dove ci siano le persone migliori con una diagnosi significa per forza che ogni comportamento del bambino viene letto attraverso la diagnosi quindi non c'è più il bambino non c'è più il bambino che ha le pigne perché ha le pigne come tutti ma ha la stereotipia ma ha quello ma ha e non c'è più la lettura del comportamento naturale questo non dobbiamo mai arrivare a farlo quindi per questo dice è meglio in caso di dubbio sottodiagnosticare e poi la migliore garanzia di sicurezza è una diagnosi sequenziale cioè noi da sempre diciamo una diagnosi attraverso la terapia non c'è la necessità a due anni e quattro mesi di dare subito una diagnosi magari se la diamo e lavoriamo con i genitori dicendo beh vediamo che succede c'è successo proprio in due tre situazioni che abbiamo visto il bambino prima dell'estate un bambino di 21 mesi 22 in cui c'erano dei segni preoccupanti delle madri molto carine che si sono immediatamente attivate con le cose che abbiamo chiesto abbiamo detto beh rivediamoci fra due mesi dopo l'estate vediamo che succede per due di questi bambini c'è stata un'evoluzione assolutamente positiva anche per il terzo ma era già una situazione più critica però diciamo che corsa c'è nel fare una diagnosi a 22 mesi perché quello che invece la corsa è dare in base a quello che abbiamo capito delle indicazioni per aiutare il bambino e allora se il bambino con quelle indicazioni è già migliorato significa che abbiamo capito dove era la difficoltà e allora a quel punto possiamo anche meglio organizzare la diagnosi e quindi la restituzione del bambino reale ai genitori è parte integrante di un buon processo diagnostico e concludo con questo dicendo che diciamo proprio tutta questa attenzione che si dà oggi al neglect e credo volevo fare questa considerazione di più ampio respiro e che mi sembra che non tenere nella giusta considerazione la complessità dello sviluppo costituisca il neglect del nostro scenario collettivo nei confronti dei bambini e della loro infanzia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti